Un'implementazione del sistema di videosorveglianza nelle zone della città con maggiori concentrazioni di presenza anzitutto nei periodi estivi. Quello della movida violenta è spesso un fattore che genera rischi e così l'amministrazione comunale punta i finanziamenti del Fondo Unico per la Giustizia disposti dal Ministero dell'Interno. Sono poco più di 90 i comuni che hanno i requisiti necessari, compresa Gela. Lo stanziamento complessivo potrebbe aggirarsi intorno ai 60.000 euro. La Giunta ha autorizzato la partecipazione al bando ministeriale. Sono previsti due progetti con videosorveglianza sul lungomare Federico II di Svevia e con il monitoraggio delle aree a maggior aggregazione giovanile. La proposta è stata avanzata al settore Polizia Municipale accolta dalla Giunta. Negli scorsi mesi si è invece proceduto ad installare i sistemi di videosorveglianza collocati sulla base di un progetto coperto in gran parte con fondi comunali e avallato alla precedente Giunta. Sono tutti sistemi che vanno a supporto dell'attività svolta dalle forze dell'ordine anche come forma di prevenzione rispetto alle attività legate alla criminalità o comunque proprio alle forme di violenza.